Polo arte e musica alla Cavalerizza, 750 mila euro dalla regione. Cure a ciechi e ipovedenti, ok dell'aula al tavolo permanente. Scelta sociale, tutte le domande ammissibili saranno finanziate. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati via libera all'unanimità da parte del Consiglio regionale al disegno di legge che prevede uno stanziamento di 750 mila euro da parte della regione per istituire il Polo arte e musica alla Cavalerizza Reale di Torino. La regione Piemonte investirà 750 mila euro per permettere all'Accademia Albertina e al Conservatorio Giuseppe Verdi di entrare a far parte del Consorzio Polo delle Arti di Torino-Piemonte alla Cavalerizza. E quanto prevede il disegno di legge approvato all'unanimità in Consiglio regionale che ha l'obiettivo di valorizzare l'eccellenza nazionale e internazionale nell'ambito della formazione della produzione artistica e musicale. La ricollocazione e l'ampliamento dei due nuovi soggetti nell'ambito del Polo della Cavalerizza Reale richiederà un investimento, una tantum a fondo perduto da parte della regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023 nell'ambito della missione Tutele e valorizzazione dei beni delle attività culturali e del programma valorizzazione dei beni di interesse storico. L'intenzione è quella di creare una fascia di terzo livello con tutta una parte di master di alta elevatissima specializzazione post-universitaria sia sotto il punto di vista della musica, della prosa, della scenografia e ovviamente tutto ciò che riguarda il pacchetto delle arti che si insegnano per l'appunto sia nell'Accademia che nel Conservatorio. Relatori di opposizione Daniele Valle, Partito Democratico e Silvio Magliano moderati. Mettere al centro lo sviluppo non solo universitario ma di capacità tra l'altro di formare ragazze, uomini e donne che potranno essere ambasciatori del nostro Piemonte e della nostra città portando la musica, l'arte e la cultura. Una proposta già condivisa in Commissione Cultura ha rimarcato Daniele Valle nella sua relazione in aula in cui ha espresso il sostegno del Partito Democratico al disegno di legge. Nell'ambito della discussione generale sono intervenuti esprimendo parere favorevole anche Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare e Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle. Unanimità da parte dell'Aula anche alla mozione che impegna la Giunta a istituire un tavolo permanente per le cure a ciechi e i povedenti. Via libera dell'Aula all'unanimità con 37 sì alla mozione presentata dal Presidente della Commissione Sanitale Sandro Stecco Lega per impegnare il Presidente e la Giunta regionale a istituire un tavolo tecnico permanente che comprenda le associazioni rappresentative delle persone non vedenti e i povedenti, le ASL e le direzioni degli assessorati alla sanità e al welfare per analizzare le criticità e le possibili strategie per garantire una copertura dei servizi sull'intera regione. Fare in modo che chi soffre di cecità o ipovisione circa 10.000 persone in Piemonte di cui circa 1.000 sono in carico ai centri di riabilitazione visiva possano avere un percorso facile. Il documento emendato e sottoscritto anche dai gruppi Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Moderati e Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare nasce in seguito alla richiesta dei rappresentanti dell'Unione Italiana Cecchi e i povedenti auditi lunedì in Commissione che hanno sottolineato la necessità di affrontare e risolvere le numerose criticità in corso tra cui una costante diminuzione delle risorse destinate al funzionamento dei cinque centri presenti sul territorio regionale, la decisione di alcune ASL di internalizzare i servizi per ridurre i costi e l'aumento dei tempi di attesa. Il contenuto è assolutamente condivisibile, non abbiamo avuto molto tempo per interagire con il primo firmatario ma nonostante questo abbiamo comunque dato il nostro sostegno sottoscrivendo l'atto. Scelta sociale, si finanzieranno tutte le domande ammissibili. Nessuna domanda considerata ammissibile per il voucher scelta sociale è stata esclusa dal finanziamento per mancanza delle risorse disponibili. Così ha risposto l'assessore Maurizio Marrone all'interrogazione urgente presentata dalla consigliera Silvana Accossato, liberi uguali verdi, che chiedeva quante fossero le domande per il buono domiciliarità per persone non autosufficienti non finanziate per mancanza di fondi. L'assessore ha spiegato che le risorse per questi bonus, utilizzati soprattutto a favore degli anziani, ammontano a 45 milioni all'anno e vengono erogati per trimestri. I primi 17 milioni e 800 mila euro hanno garantito il finanziamento di 1.239 domande su un totale di 1.369 ammissibili. Le 130 domande rimanenti verranno riprese in considerazione per la graduatoria del secondo trimestre che si chiude il 31 luglio prossimo e saranno molto probabilmente tutte finanziate, anche perché le domande nel secondo periodo sono state un numero molto inferiore rispetto al primo. Una serata al Teatro Gobetti dedicata a Gipo Farassino e a Mario Piovano a dieci anni dalla loro scomparsa. Storie di barriera in scena al Teatro Gobetti di Torino, una serata sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte dedicata a Gipo Farassino, non soltanto chansonnier e uomo di teatro, ma anche ultimo grande poeta subalpino. E a Mario Piovano, fisarmonicista che aveva lavorato con grandi interpreti della canzone francese prima di tornare in Piemonte per dedicarsi alla musica popolare. Lo spettacolo, con la regia di Giulio Graglia, si inserisce nel cartellone del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del Novecento. Gipo Farassino e Mario Piovano, due figure che hanno fatto grande il Piemonte e hanno portato a livello internazionale la piemontesità. Il ringraziamento è al regista Giulio Graglia che ha permesso tutto questo in collaborazione col Consiglio regionale. Gipo Farassino, ha ricordato la figlia Valentina, è stato un artista in grado di trasformare la cultura popolare in cultura alta, restituendo dignità alla lingua locale, alle tradizioni che non erano un ricordo lontano, ma sentimenti vivi. Il problema oggi è la mancanza di veri eredi artistici. Una cosa che sento ogni tanto nelle persone, che devo dire la verità, mi fa piacere, mi dicono manca. Ma non manca in senso retorico, no, manca, cioè manca proprio come figura. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci. Grazie a tutti.